Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di questi due shampoo solidi che ho comprato di recente in questo periodo Tutti e due shampoo solidi, uno della Nae che ho comprato all'S lunga Il prezzo pieno mi pare fosse 5 euro ma io l'ho preso in offerta tra i 50 E poi questo qua della Biolis che sta intorno ai 3 euro Insomma la Biolis comunque non supera mai 4 euro Allora vi faccio vedere questo, allora intanto vi dico che non mi sono piaciuti tutte e due, proprio entrambi Questo qua è della Nae, che la fa la Enkel a Milano Vi faccio vedere la scatola, infatti c'è scritto italiano Enkel Milano 85 grammi E questa è la scatola Questo qua per capelli grassi Allora mi lasciava i capelli sporchi Ho provato anche a fare il doppio passaggio, lasciarlo agire Niente di niente, me li lasciava proprio sporchi C'è anche un altro tipo, c'è la rosa canina questo, con la scatola rosa Quindi assolutamente il mio preferito per ora rimane quello del DM al cocco Però essendo tra fasce qua non si può uscire dal paese, si può uscire ballevari Il DM sta a un bel pezzo da casa mia Insomma praticamente mi devo organizzare una giornata per andare là E non ci potevo andare E quindi mi sono dovuta accontentare con degli shampoo che trovavo vicino a casa Questo non mi è piaciuto, ha l'esse lunga E questo della Biolis si trova al Tigotà E basta, è una loro marca Non si troverà in nessun'altra parte E questa è l'avena 99% ingredienti naturali Questa marca a me piace perché probabilmente la fanno attaccatissima a casa mia A Gerenzano, Varese Probabilmente sta a 10 minuti da casa mia E anche il Tigotà stesso dove lo prendo Però Anche gli shampoo quelli col pack Cioè in plastica, diciamo liquidi Non mi lavano bene i capelli Con i balsami li trovo bene Le creme, il detergente e tutto quanto Ma gli shampoo proprio zero Questo qua c'è l'avena E poi c'è anche della linea quella nera Perché la Biolis fa sia prodotti col pack bianco E poi quelli con il pack nero Quello là forse era l'argan Ma ovviamente non lo proverò Perché comunque avrò provato 3 shampoo della Biolis 3 su 3 No, non ci siamo E quindi Non lo riproverò Adesso appena sarà possibile Andrò sicuramente al DM A fare scorta del mio preferito E niente Ora qua dentro non ve lo faccio vedere Perché ovviamente poi Li ho finiti Cioè Quando ho deciso di non utilizzarli più come shampoo Li ho utilizzati come sapone mani Perché era un peccato buttarli Comunque questo ovviamente era tondo Questo era tondo Ah, tutti e due bianchi Se vi interessa Ovviamente niente coloranti Anche questo era bianco Questo qua è Non ve lo devo Ah, sempre 85 grammi Tutte e due 85 grammi E niente Questo è il mio parere Praticamente non sto trovando uno shampoo Che mi piaccia Solido Eh, vabbè Ce la faremo A parte quello del DM Al cocco Che a quanto pare Ne hanno fatti anche di nuove Hanno fatto anche quello Forse al cocco Non mi ricordo No, il cocco È quello che piace a me Ne hanno fatto Ah, la mandorla nuovo Il DM si sta Espandendo con gli shampoo solidi E quindi appena sarà possibile Andrò a fare scorta Assolutamente E niente Questo è il mio parere Su questi due shampoo Spero vi sia stato utile Per chi si sta avvicinando Agli shampoo solidi Zero waste Ecologia E tutte queste cose qui Ehm Ci vediamo nel prossimo video Se avrò altri shampoo solidi Da Farvi sapere il mio parere Ciao